bentornati ancora qui dal masters of the review ragazzi che cosa abbiamo qua tra le mani oggi abbiamo uno splendido funko pop che ho appena acquistato dal gamestop ecco qua lo scontrino in pratica c'era un'offerta e ve la voglio veramente spiegare questa offerta perché è veramente molto conveniente praticamente acquistando due funko pop il meno caro o anche il secondo che costa uguale lo paghi la metà e quindi ho preso questo qua in più il goku ultraistinto che avevo pagato 20 e 20 e il secondo l'ho pagato la metà e quindi questo ha pagato 10 euro in tutto ho speso 30 euro senza perdere altro tempo andiamo subito a vedere questo funko pop meraviglioso un attimo vediamo il set da quali funko pop è composto questo set abbiamo il master chief con cortana sergente johnson back di odst arbiter in più gli esclusivi che sono sergente johnson chase master chief con la lama esclusiva gamestop arbiter esclusivo best buy esclusivo americano quello lì dorato che non si trova assolutamente qua in italia quindi bisogna comprare su ebay a prezzi assurdi eccoci qui ragazzi io di questo set ho già il master chief con cortana e il master chief con la lama sergente johnson mi mancano questi due questo esclusivo questo esclusivo e questo normale e questo normale pure quindi me ne mancano quattro ne ho quattro e me ne mancano quattro ok andiamo ad aprire questo fantastico funko pop ecco qua ho trovato il punto di apertura e adesso passiamo al momento fetish in cui scavichiamo questo funko pop c'è ragazzi è un funko pop assurdo questo sembra non so fatto di un materiale strano sembra fatto di insomma una pietra calcarea non so è veramente una cosa sulla al tatto è liscissimo ragazzi sembra veramente una pietra sembra qualcosa di prezioso questo funko pop ecco qua è lo stesso funko pop di quello esclusivo gamestop quello con la lama però questa versione come dice qua la versione camo con il camo attivato translucent lui chiamava eccolo qua è molto facile fare il review perché oh my god cos'è questo cazzo è è un pezzo di carta attaccato non so come ci è finito ragazzi i misteri i misteri di forse è un errore di fabbrica ma si stacca dopo lo sistema eccolo qua il funko pop di master chief di aloe ragazzi sto facendo una merenda assurda adesso vi faccio vedere un secondo ecco qua il funko di aloe cioè sto mangiando questa è una combo assurda ve la ve la consiglio veramente bel tè al limone e amica chief indorada intanto master chief è caduto questa qua è queste patatine sono veramente buonissime ragazzi all'olio d'oliva e sono veramente fantastiche guardate che consistenza ho preso la più brutta guardate che belle sono buonissime su questa immagine anzi possiamo anche salutarci mi raccomando iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel like a questo video ci vediamo alla prossima sempre qui con altre aperture di funko pop e cazzate vari ciao ragazzi bel pop grazie a tutti